Ben trovati a tutti per quest'ultimo aggiornamento meteo della settimana. Ebbene, sta per iniziare il secondo weekend del mese di ottobre e l'andamento meteoclimatico del momento sembra ancora fermo a fine agosto e ci presenta infatti ancora caratteristiche indubbiamente estive. Andando al di là di ogni ragionamento egoistico e antropocentrico, dobbiamo renderci conto che per quanto gradevole possa sembrare questa situazione è di per sé devastante. Una situazione senz'altro deleteria per la natura, per i cicli biologici, per l'ambiente e quindi buona sostanza anche per noi stessi e soprattutto in considerazione del fatto che non si tratta di una semplice anomalia del momento ma di un nuovo stato di fatto, ormai legato ad un cambiamento epocale e soprattutto molto rapido del clima. Un cambiamento che non lascia margine e che non concede tempo sufficiente per adattarci. Ed è proprio questo che dobbiamo comprendere. Non è tanto il riscaldamento climatico il problema, non lo sarebbe neanche un'eventuale situazione contraria, ovvero un raffreddamento, bensì la rapidità con la quale si sta manifestando. Qui però dobbiamo parlare di tempo, non di clima, anche se entrambi pur viaggiando su scale temporali diverse sono intimamente legati tra loro. Che tempo farà nei prossimi giorni? Un tempo che vedrà ancora un unico gran protagonista della scena, una grande cupola anticiclonica adagiata sull'Europa e sul Mediterraneo che richiama aria calda di origine subtropicale e mantiene invece lontane le piovose perturbazioni autunnali. Questa struttura anche nei prossimi giorni continuerà a reinvigorirsi e a mantenere sull'Italia a tempo stabile, in prevalenza soleggiato, asciutto, senza precipitazioni e più caldo del normale. Per eventuali cambiamenti dovremo probabilmente attendere la fine della prossima settimana, quando secondo le elaborazioni numeriche esaminate in chiave probabilistica, un fronte freddo proveniente dal nord Europa appare intenzionato a demolire l'egemonia anticiclonica, portando un primo netto ricambio dell'aria con calo delle temperature e anche qualche precipitazione al seguito. Ma soprattutto potrebbe aprire la strada ad un canale depressionario entro il quale poi potrebbero riuscire ad inserirsi le piovose perturbazioni atlantiche e gli interverebbe probabilmente l'autunno, ma al momento è presto per parlarne e vedremo successivamente se andrà effettivamente così. Un rapido sguardo alle previsioni ci porta subito ad un weekend quasi estivo, sabato sole praticamente ovunque, anche eventuali banchi nuvolosi dovessero formarsi e avranno carattere del tutto locale e temporaneo. Sulle aree pianeggianti saranno possibili nelle ore notturne del primo mattino isolati banchi di nello. I venti saranno tutti deboli, mari piatti e le temperature manco a dirlo nettamente superiori alla media del periodo con valori massimi compresi tra 25 e 28 gradi ma con punti locali anche fino a 30 e farà caldo anche di notte rispetto alla normalità. Domenica giornata praticamente identica da segnalare solo un certo rinforzo del vento da nord in quota sulle Alpi e lungo il versante adriateco con il mare che diventerà tratti mosso, per il resto gran sole. Verso fine giornata transito di velature e banchi nuvolosi comunque sottili sul Triveneto e sulle Alpi centrali ma senza conseguenze. Temperature stazionarne ancora punte locali fino a 30 gradi. Infine la tendenza per l'inizio della prossima settimana che vedrà ancora tempo in prevalenza soleggiato, a tratti sono un po' velato parzialmente nuvoloso sul Triveneto, le temperature si manterranno ancora su valori attuali quindi decisamente più alte del normale. Bene con questo abbiamo terminato, se volete rimanere sempre aggiornati iscrivetevi al canale, invitati i vostri amici a farlo. Io con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi auguro un buon fine settimana. Vi attendo al prossimo video e a risentirci da Locangelini.